Ciao, allora pensi di avere un problema di acaro del tarlo? Ecco cosa devi fare nell'immediato. Chiudi e sigilla la stanza che presenta mobili, parquet o legno tarlato. Se invece il problema è diffuso in tutta la casa e ne hai la possibilità, allora esci, perché le punture dell'acaro del tarlo sono molto più originose, insopportabili. Mi raccomando, non utilizzare pesticidi o l'antitarlo sul legno. Servirà solo ad avvelenare la tua casa, così facendo intossicherai te, i tuoi cari, gli animali domestici e non avrai affatto risolto il problema. Gli acari si trovano nelle profondità del legno, nel suo interno. La maggioranza della popolazione di questo tipo di infestante si trova là, ed è là che dovremmo intervenire. Se non hai la possibilità di spostarti dalla stanza o uscire di casa, puoi usare un olio essenziale, molto efficace per tamponare il problema. Lo puoi cospaggere sul letto dove dormi o sulla tua pelle. L'olio di sandalo presenta un odore sgradito per questo tipo di infestante è un ottimo repellente e ti potrà risultare molto utile. Poi, chiama subito o compila il form che compare in questa pagina, perché dobbiamo intervenire velocemente prima che l'infestazione si sviluppi. I nostri esperti ti indicheranno una soluzione definitiva con cui contrastare gli acari dei tarli, senza buttare mobili, senza uscire di casa e senza avvelenare l'ambiente in cui vivi. Contattaci.